E' saltata l'audizione di Matteo Gianello alla procura federale. L'ex portiere del Napoli, ora i dilettanti del Villafranca Veronese, era stato convocato dal procuratore Palazzi in merito al filone partenopeo dell'inchiesta su calcio scommesse. Gianello aveva parlato e PM Campani della presunta tentata con Bin di Sampdoria-Napoli del 26 maggio 2010, in cui avrebbe cercato di coinvolgere, con scarsi risultati, stando alle sue dichiarazioni, gli ex compagni di squadra Paolo Cannavaro e Gianluca Grava. I due saranno sentiti nel pomeriggio insieme all'ex azzurro Giuseppe Mascara e allenatore del Napoli Walter Mazzarri. Su tutto il fronte calcio scommesse nella prossima settimana si intensificheranno le aduzioni della procura federale. Il giorno 9 sono attese tra gli altri Fabio Quagliarella e il reo confesso Andrea Masiello, che finora ha aiutato molto il PM nella ricostruzione del filone di Bari. Il 12 luglio toccherà il presidente del Siena Mezzaroma, mentre il giorno dopo sarà il turno del tecnico gioventino Antonio Conte, che è stato tirato in ballo dal calciatore Carrobbio in merito alla presunta combine dell'ultima giornata di campionato 2010-2011 di Serie B tra Siena e Novara. All'epoca Conte allenava i senesi. Le ultime audizioni si saranno il 16 luglio, dove i calciatori Renocchia e Bonucci saranno sentiti dal procuratore federale Palazzi come testimoni nel caso Masiello. Infatti i due all'epoca erano tesserati con il Bari.